Venerdì delle quattro tempore di avvento, anno liturgico, rito antico. La Chiesa non legge nulla del profeta Esaia in questo giorno. Si accontenta di ricordare, nel mattutino, il passo del Vangelo in cui San Luca narra il mistero della visitazione della Santa Vergine. Dopodiché si legge un frammento del commento di Sant'Ambrogio su questo stesso passo. Noi riserviamo per il proprio dei Santi le considerazioni e gli affetti che deve ispirare ai fedeli questa importante circostanza della vita della Madre di Dio. La stazione di oggi è nella Chiesa dei Santissimi Apostoli. I Papi Pelagio I e Giovanni III dedicarono questa Chiesa agli Apostoli San Filippo e San Giacomo. E' qui che i loro corpi, sepolti sotto l'altare, attendono la seconda venuta di colui che li scelse come suoi cooperatori nell'opera della prima e a fianco del quale siederanno su un trono nell'ultimo giorno per giudicare le dodici tribù di Israele. Grazie. 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 Grazie.